Si è conclusa l'avventura del Natale Village 2014 nella piazza Unità d'Italia a Castelmella. 15 giorni in cui 53 stand provenienti non solo dall'Italia hanno riempito la piazza con i loro prodotti e le loro tipicità, ma soprattutto 15 giorni in cui lo staff della Creative SRL ha organizzato numerosi eventi per coinvolgere adulti e bambini. Soddisfatti gli espositori che si sono complimentati con l'organizzazione per gli sforzi fatti, ma che hanno lamentato una scarsa partecipazione della popolazione locale che ha perso una grande occasione per passare questi giorni di festa in una piazza ricca di luci, colori e profumi tipici di questo periodo. Ai nostri microfoni Angelo D'Amico e Oreste fanno un riepilogo sull'avventura appena conclusa e rinnovano l'invito per il prossimo anno. Cosa dire, oggi si chiude, è stata un'esperienza davvero interessante per la città di Brescia ed è un'operazione che certamente si ripeterà per i prossimi anni, probabilmente il progetto sarà itinerante per cui andremo in un'altra sede e cos'altro dire? Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato con noi, gli stand che sono venuti da tutta Italia, ringraziamo Radio Vera e Radio Bruno per essere stati partecipi in questa avventura e ci vediamo al prossimo Natale Village 2015. Ciao a tutti! Grazie a tutti!